Potrebbe essere legato ad un regolamento di conti per lo spaccio di droga l'accoltellamento avvenuto ieri all'Aquila. L'aggressore del 21enne ferito a soli 16 anni è un ragazzino di origini marocchine fermato dalla polizia perché considerato l'autore del violento episodio avvenuto alla fermata dell'autobus di Colle Sapone e il quartiere dell'Aquila in cui si concentrano diverse scuole della città. Ad incastrare il giovanissimo aggressore che era in compagnia di un coetaneo aquilano le immagini delle videocamere visionate dalle forze dell'ordine che hanno ascoltato anche diversi testimoni. L'aggressione è avvenuta all'uscita di scuola davanti agli occhi attoniti e sgomenti di centinaia di giovani studenti che avrebbero pure provato a disarmare il 16enne che ha coltellato poi RM, le iniziali della vittima che ha 21 anni. Tra i testimoni anche la titolare del bar Acquasanta che ai microfoni della collega Sabrina Giangrande ha raccontato quello che ha visto. Il proprio che l'ho visto è successo dopo all'ora di pranzo, limitavo mezzogiorno diciamo. Ha visto però che c'è qualcuno, un gruppo di ragazzi ha aggredito? Ah sì, un gruppo di ragazzi che hanno aggredito un ragazzo. Altre volte si sono verificati dei episodi? Questa è la prima volta che si verifica un episodio così, diciamo, violento. Tutto sarebbe nato da una lite scoppiata e l'ipotesi degli investigatori per lo spaccio di droga tra le baby gang del capologo abruzzese. E questo spiegherebbe perché ieri sera il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha convocato un vertice straordinario delle forze di polizia. Invece il 21enne, colpito con un fendente, nelle scorse ore è stato operato all'ospedale dell'Aquila, dove era stato trasportato in codice rosso. Per i medici non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Per i medici non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.